Messaggio promozionale per l'accesso ai messaggi elettorali per le elezioni regionali 2022 in Sicilia, ai sensi della legge 22 febbraio 2000 numero 28, contenente le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica della delibera autorità del garante delle garanzie e delle comunicazioni numero 26521 Cons, recante disposizioni di attuazione della disciplina della comunicazione politica di parità ai sensi di accesso ai mezzi di informazione relativi alle elezioni per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Siciliana dei relativi deputati, fissata per il giorno 25 settembre 2022. La società Canale 2 TPSRLS, con sede a Marsale incontrata a Strasatti 130A, l'editore della testata comunica per la campagna elettorale regionale del 25 settembre 2022, mette a disposizione gli spazi pubblicitari a pagamento su queste emittenti online www.canale2.com per la diffusione di messaggi politici nelle forme consentite come disciplina, l'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000 numero 28 e della delibera per le autorità delle garanzie e nelle comunicazioni numero 26521 Cons, l'accesso agli spazi su Canale 2, è consentita a tutti i soggetti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento, il numero massimo del contenitore disposto nella collocazione del palinzesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna della trasmissione del materiale autoprodotto sono quelli previsti nel regolamento analitico alias codice di autoregolamentazione depositato presso la redazione di Canale 2, sita Marsala, incontrata a Strasatti numero 130A, telefono 0923 569660, recapito dell'amministratore Giuseppe Maltese 327 44 17442.